il prossimo ospite della prossima puntata di stories è rene ferretti benvenuto benvenuto rene ciao come stai ma tutto tutto abbastanza bene allora un nuovo un nuovo progetto sei nuovamente regista di un nuovo progetto cinematografico si ragazzo però non ne posso parlare adesso perché purtroppo ci sono problemi editoriali e non mi permettono di spoilerare nessuno spoiler ma diciamo hai una troupe che conosci bene che t'ha già accompagnato anche in passato mi chiedo perché non me ne libero mi stanno sempre dietro alla fine li voglio bene allora riprendo capito c'è anche qualche personaggio nuovo cioè hai scelto insomma il cast è molto ricco e speriamo che la che il film la cosa che stiamo realizzando venga bene ecco l'unica cosa che possiamo dire che ci sono diverse comparse diverse comparse sono quasi tutte di origine calabrese non che ci sia niente non ti posso dire perché no però sono tutti calabrese sono tutti calabrese sono bravi sì 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 hanno anche una parlata che ricorda un po' l'aramaico l'aramaico lasciamolo lì così sì 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 Grazie a tutti.